La Svizzera italiana è un buon posto dove andare a vivere? Vediamo subito in questo nuovo video. Michele, il mio trasporto in Svizzera, oggi vogliamo parlare della Svizzera italiana. Ci sono svariati vlog che ho già fatto e li trovate qui sul canale, proprio relativi a farvi vedere proprio l'ambiente, le città e via dicendo di quello che è la Svizzera italiana. Però oggi vorrei proprio andare a farvi capire quali sono alcune peculiarità di questo territorio in Svizzera e perché, e perché o perché no, potrebbe essere una scelta corretta dove andare a trasferirvi. Allora, innanzitutto, cosa si intende per Svizzera italiana? Perché qui c'è già una confusione. Molti intendono la Svizzera italiana come il Ticino. Allora, sì e no, nel senso che il Ticino sicuramente è Svizzera italiana, nel senso che è il cantone di lingua italiana completamente della Svizzera. Anche ci sono alcune piccole valli in cui ci sono dialetti simil tedeschi e via dicendo. Però non è unicamente il Ticino, perché ci sono delle valli del cantono Grigioni, che è il cantone qui confinante a Est, quindi Svizzera italiana comprende chiaramente anche questo territorio ed è importante saperlo. Poi, come è vista la Svizzera italiana in Svizzera? Allora, tendenzialmente qui dipende molto dalle zone. È ben vista soprattutto dal punto di vista del turismo, cioè molti svizzeri dei cantoni francesi o dei cantoni della Svizzera centrale, quindi i cantoni tedeschi, vengono ovviamente qui in vacanza per il weekend, perché è molto piacevole, costa anche leggermente di meno. Molti hanno anche delle seconde case, quindi è veramente sfruttato molto in Svizzera dal punto di vista turistico. Ma per il trasferimento, per il vostro trasferimento, rispetto a quello che sono gli aspetti che possono essere peculiari e positivi anche relativamente alla Svizzera italiana, quali sono? Allora, prima di tutto il clima. Molti si lamentano che la Svizzera fa freddo, non c'è il mare, tutte quelle solite cose. Ok, chiaramente la Svizzera non potrà mai avere un clima come quello che c'è in Sicilia, o come c'è in Sardegna, o come c'è in Puglia, chiaramente. Ma questo neanche Milano, chiaramente, e neanche Milano c'è il mare, vi ricordo. Però invece il canton Ticino, nello specifico, meno le valli dei Grigioni che sono già più montagnose, ha un clima molto simile a quello della Lombardia. Anzi, tendenzialmente anche più mite in alcune parti, perché comunque, soprattutto il lago di Lugano e il lago Maggiore, anche d'inverno si ha un clima a volte un po' più mite di quello della pianura padana. E quindi è qualcosa di sicuramente piacevole e di diverso dal resto della Svizzera, in cui sicuramente il clima è più continentale europeo e quindi un po' più freddo rispetto al clima italiano. La seconda convenienza di quello che può essere abitare nella Svizzera italiana è quella relativamente alla tassazione, perché sia, con maggior ragione, le valli dei Grigioni, ma anche il canton Ticino, soprattutto per una famiglia, quindi con figli o anche chi è da solo, ma ha un reddito medio, che in medio in Svizzera siamo intorno ai 100 o 120 mila franchi all'anno, ha una tassazione comunque del tutto onesta, nel senso non bassissima ma neanche altissima. Ovviamente su redditi più elevati inizia a essere un pelino meno conveniente, quindi sicuramente a livello di tassazione, perché un reddito fino a questa cifra, ma anche poco sopra, è un territorio che può tranquillamente offrire una buona competitività. Un terzo vantaggio è quello relativamente alla vicinanza con l'Italia, se a qualcuno interessa, perché la Svizzera italiana chiaramente confina con l'Italia, il territorio chiaramente è molto vicino a quello italiano, e questo può avere delle convenienze da diversi punti di vista, logistica e via dicendo. Un quarto aspetto peculiare un po' della Svizzera italiana è quello della tranquillità. Questo ne ho già parlato in un altro video su come si vive in Svizzera, è qualcosa che un po' accomuna tutto il territorio, però diciamo che la Svizzera italiana sicuramente è uno dei cantoni dove si vive in maniera un po' più tranquilla, perché prima di tutto non ci sono centri urbani, che può essere anche un lato negativo, ne parliamo dopo, però è veramente molto molto tranquillo, sereno, quindi non ci sono particolari problemi o tensioni come ci possono essere magari nei grandi centri urbani. E poi chiaramente il quinto aspetto è quello della lingua, cioè Svizzera italiana, proprio perché si parla italiano, quindi dal punto di vista burocratico e anche culturale, delle amicizie eccetera, chiaramente si ha la possibilità di parlare la propria lingua, se voi che ascoltate siete italiani come immagino, e quindi questo è qualcosa sicuramente di interessante, è un aspetto da non dimenticare, soprattutto confrontato con le altre parti appunto della Svizzera. Quali sono però delle controindicazioni? Quindi abbiamo parlato di alcune peculiarità, aspetti, diciamo, interessanti e positivi. Quali sono le controindicazioni invece della Svizzera italiana? Una l'ho accennata poco fa, cioè la mancanza di grandi centri urbani, quindi non ci sono città da centinaia di migliaia di persone, come possono essere Ginevra, Lausanna, Zurigo, Vasilea, quindi Berna, quindi chiaramente questo può essere penalizzante per chi vuole un po' più di vivacità culturale, un po' più di movimento, un po' più di servizi diffusi, di concorrenza anche rispetto a tutto quello che possono essere servizi interessanti. Ma come anche le università, nella Svizzera italiana ci sono università anche ben importanti, però ovviamente l'offerta e il prestigio di alcune università nella Svizzera francese e tedesca ovviamente è superiore. Quindi questo sicuramente è qualcosa da prendere in considerazione, però può interessare ad alcuni e ad altri molto meno. Relativamente a quello che è il lavoro dipendente, e quindi qui c'è la doppia faccia, quindi un imprenditore può avere dei vantaggi in Ticino, perché comunque i salari sono un po' più bassi, quindi ha una mano d'opera e dei dipendenti che hanno dei costi un po' più bassi rispetto al resto della Svizzera. Invece per chi è dipendente e cerca lavoro in Svizzera, chiaramente in Ticino ha un salario medio un po' più basso rispetto a quello che si ha in altri cantoni. Chiaramente anche il costo della vita è un po' più basso, quindi questo ovviamente poi ognuno si deve fare i conti rispetto al proprio stile di vita, alla propria situazione. Poi ci sono vari aspetti che però sono più soggettivi e singoli, come quello per chi è importante l'auto, il canton Ticino chiaramente non è molto vantaggioso, nel senso che se si vuole un'auto potente ha una delle tasse di circolazione più alte della Svizzera, quindi da quel punto di vista non è fenomenale, anche se confrontato col Super Bowl italiano è sempre molto vantaggioso. Ne ho parlato già anche questo in altri video che trovate sul canale. Poi la vicinanza alla frontiera, anche questo può essere un vantaggio, ma per alcuni può essere uno svantaggio, se uno vuole abitare più lontano dall'Italia, quindi questo è qualcosa di completamente soggettivo. E poi ci sono tutti gli aspetti soggettivi, uno può voler abitare più al freddo perché gli piace il freddo, vuole abitare vicino alla Germania perché ha tanti clienti in Germania, quindi questo può dipendere molto veramente dalle peculiarità soggettive di ognuno di voi. Quindi per tirare le righe, ho cercato un po' di essere sintetico, ma andiamo a trarre delle conclusioni. Consiglio la Svizzera italiana per andare a abitare, sia per fare impresa che per fare i dipendenti? Io direi assolutamente sì. Ovviamente ci sono dei ma, abbiamo visto poco fa nei lati più negativi, quindi ognuno deve andare a valutare la propria situazione. Quello che noi facciamo in consulenza, sia per imprenditori, sia eventualmente per dipendenti che abbiano già un contratto di lavoro, delle opportunità da valutare in Svizzera, è quello di andare a vedere insieme quali sono i vantaggi e i svantaggi rispetto alla propria situazione specifica. Quindi già in consulenza preliminare, che è quello che ci permette di conoscerci reciprocamente, andiamo proprio a dare del valore e una consulenza proprio concreta rispetto a questi aspetti, quindi andare a capire poi quali sono i passi da fare, sia se si vuole venire in Svizzera italiana, sia se vogliono valutare altri cantoni, perché possono essere più interessanti, più vantaggiosi nella propria situazione. Quindi Svizzera italiana assolutamente sì, ovviamente poi da valutare in sede di consulenza insieme. Io spero che questo video gli sia stato utile, noi ci vediamo nel prossimo video.